Buongiorno e buona Pasquetta a tutti! Bentornati per la seconda parte della storia di Topiopi di Andrea Camilleri. Un pomeriggio, mentre me ne stavo a giocare nel baglio, arrivò l'asinello. Sono a carico di quattro grossissimi sacchi che dovevano pesare molto. Il contadino che lo seguiva si fermò a parlare con mio zio Massimo. Io mi avvicinai all'asinello che mi pareva molto stanco per confortarlo e gli fece una carezza sul muso. Fu allora che sentì un Piopi! Altissimo e fraziante. Piopi si rotolava per terra pigolando disperato nel vano tentativo di rimettersi dritto. Vano perché l'asinello inavvertitamente gli aveva tranciato di netto una zampina con lo zoccolo. Sconvolto mi misi a urlare coprendomi gli occhi con le mani. Corsi lontano per non vedere quell'orribile scena. Inciampai sul gradino del portone, mi ci sedetti sopra sempre tenendo gli occhi chiusi, con le lacrime che mi bagnavano la camicia. Ero veramente disperato. A un tratto sentì la voce di zio Massimo che mi posava qualcosa sulle gambe. Accarezzalo, calmalo, io torno tra cinque minuti. Allungai una mano tremante e incontrai il corpicino di Piopi. Era scosso da un tremito leggero e continuo e ripeteva un... senza sosta ma appena audibile. Presi ad accarezzarlo dolcemente e sembrò essersi un pochino calmato. Non osavo né guardare né toccare la zampetta ferita. Mille pensieri mi passavano per la testa. Come avrebbe fatto ora a seguirmi? E come avrei fatto io senza il mio Piopi? Arrivai a pensare che forse se mi fossi tagliato una gamba... Per fortuna arrivò zio Massimo con in mano una cassetta degli attrezzi. Lo zio che da giovane aveva lavorato come orefice si armò di un seghetto, di un metro da sarta, di una cannuccia sottile e resistente e di un pezzettino di stoffa e poi mi disse. Mettilo a pancia all'aria e non farlo muovere. Misurò la zampetta sana, misurò il moncherino rimasto, fece un rapido calcolo mentale e seguò la cannuccia. Poi la prese e verificò dentro... e la infilò dentro il moncherino della zampetta di Piopi. Rimisurò le due zampette. Erano della stessa lunghezza. Con la punta del suo coltello praticò due fori nella parte alta della cannuccia. Vi infilò un filo di raffia, uno spago vegetale e rimise il moncherino dentro la cannuccia legandola con la raffia alla coscia di Piopi. Passò molto tempo a rimboccare un pezzetto di stoffa tra la cannuccia e la zampa del pulcino per essere sicuro che non gli facesse male. Poi lo prese e lo posò per terra. Piopi se ne arrestò per un momento immobile interrompendo perplesso il suo picolare lamentoso. Poi avanzò lentamente la zampina artificiale. Vi poggiò sopra il corpo e mise avanti la zampetta buona. Aveva fatto il primo passo. Pigolò un Piopi di soddisfazione e cominciò a camminare, sia pure un po' incerto e sbilenco, sia un po' squilibrandosi e riacquistando l'equilibrio con l'aiuto delle alucce. Due giorni dopo era tornato a essere la mia ombra. L'unica cosa a cambiare era stato il suo nome. Infatti da quando aveva subito l'operazione la sua zampetta di cannuccia quando poggiava sul pavimento faceva un suono leggero come to, to, to e così io lo ribattezzai Topiopi. Era ormai trascorso una settimana dall'incidente e tutto pareva dimenticato ma una mattina appena svegli avevo posato Topiopi per terra quando il pulcino cadde su un fianco mettendosi a pigolare il suo Piopi tra il lamentoso e l'arrabbiato. Io lo presi, lo rimisi dritto e lui ricadde. Allora capì che Topiopi era cresciuto e la zampetta di cannuccia era diventata troppo corta rispetto alla zampina sana. Zio Massimo intervenne subito con la sua tecnica di alta precisione chirurgica adoperando una canna leggermente più lunga e solida. Questa volta il pulcino, forse consapevole dell'operazione che si sarebbe dovuta ripetere via via che lui cresceva, se la lasciò fare senza protestare, cosa che infatti avvenne puntualmente. E lo zio ogni dieci giorni dovette ripetere con pazienza la sostituzione della zampetta, adoperando un tronco di canna sempre più grosso e resistente via via che Topiopi cresceva. Era diventato un pollo e come un adulto non divise più il letto con me, preferì andare a dormire nella sua cesta. Topiopi aveva perso il suo piumaggio e stava mettendole sulle penne mentre una cresta rossa fiamma gli svettava sulla testa e io continuavo a chiedermi se sarebbe diventato un galletto o una gallina. Fu Topiopi stesso a darmi la risposta. Infatti una mattina svegliandomi mi saluto con un risonante. Io mi senti riempire di orgoglio. Certamente ero l'unico bambino al mondo ad avere come amica una gallina con una gamba di legno. Ci vediamo domani con un'altra storia. Ciao ciao!